Nel Goli d'Alberto Stéphane, 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 Stéphane ! Spero di quei. Go Nuno, eh, Gio! Stéphane, 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 Stéphane ! in più c'è marrant vous che senti qui l'abbiamo continuo Laurent, c'est ça 1 voilà l'anima, l'anima, l'anima l'anima, l'anima c'est ça Laurent, c'est ça encore encore Laurent, encore allez step up step up step up step up step up step up allez Lina allez encore step up 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 Giorno! Giorno! Three page! dos, adesso! Tipo! 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 Grazie a tutti! 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 3, 4, 5, 6, 4, 5, 4, 5, 4, 0. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!